Benvenuti a questo breve tutorial di presentazione della nuova procedura di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2017-2018. La procedura di adozione dei libri di testo è quest'anno integrata tra le funzioni della piattaforma dei servizi scolastici Scuola Next. Pertanto questo consente di ridurre notevolmente non solo il lavoro della segreteria nella sistemazione delle indicazioni di adozione ma anche di azzerare sostanzialmente tutti gli errori relativi all'immissione dei dati bibliografici per la proposta di adozione dei libri di testo. Il punto di partenza è l'accesso alla piattaforma Scuola Next con le proprie credenziali ID e password. Dopo aver avuto accesso alla gestione occorre cliccare sulla voce Info Classe Docenti che apre tra i vari menu disponibili il nuovo pulsante e il nuovo menu relativo proprio all'adozione dei libri di testo. Cliccando su questo pulsante si apre la schermata di gestione delle proposte di adozione. Il docente troverà nella parte sinistra le classi nelle quali insegna e per ciascuna classe le discipline che insegna. Si nota che per la classe dove ha il ruolo di coordinatore di classe egli troverà non solo le proprie discipline ma anche le discipline degli altri colleghi e pertanto potrà controllare il flusso di inserimento dei dati relativa alla proposta di adozione dei libri di testo. La procedura di inserimento dei dati bibliografici è molto semplice ed intuitiva. Cliccando sulla disciplina insegnata il docente vedrà nella parte bassa della schermata l'indicazione dei libri che sono stati attualmente adottati e quindi utilizzati nella classe di insegnamento. Rispetto a questi libri, in questo caso per esempio la prima D, la classe della prima D, in questo caso il docente può optare per una riconferma anche per la prima successiva, quindi per la prima del 2017-2018. Seleziona il libro che intende confermare e utilizzando la freccetta che si trova sulla riga di intestazione lo trasferisce nella parte superiore della schermata, avendo magari modificato qualche dato o aggiunto qualche elemento. I dati modificabili per la verità sono molto pochi, si può specificare se si tratta di una nuova adozione, se è un libro da acquistare o meno, se è consigliato o meno. Non possono essere invece modificati i titoli, il prezzo e gli altri elementi perché sono elementi che costituiscono l'informazione bibliografica di base che dipende dal database centrale dell'Associazione Italiana Editori. Una volta eventualmente modificato qualche elemento, confermando, il libro viene inviato nella schermata superiore, il che significa che questo è un libro proposto all'adozione per l'anno 2017-2018. Così anche ad esempio un secondo volume che volesse essere indicato alla riconferma va selezionato, poi si clicca sul pulsante Aggiungi libro e quindi si trasporta nella parte superiore della schermata e si procede così per tutti i volumi indicati che si intendono riconfermare per l'anno successivo. Qualora invece si voglia proporre un libro nuovo che non è presente nell'elenco dei libri adottati, bisogna utilizzare il pulsante verde in alto Aggiungi libro. In questo caso il sistema si interfaccia direttamente con il database di AIE, ovvero dell'Associazione Italiana Editori, un database che contiene tutti i dati bibliografici relativi a tutte le pubblicazioni e a tutti i libri editi per la scuola italiana, sia quelli in commercio sia quelli anche fuori commercio. Va effettuata pertanto in questo database la ricerca utilizzando una qualsiasi parola chiave, il titolo per esteso o anche una parte del titolo. A modo di esempio, volendo proporre l'adozione del testo di latino grammatica PICTA di ENAO di scuola, basterà scrivere nel campo di ricerca PICTA. Cliccando invia oppure cliccando sul pulsante cerca, verranno visualizzate le risposte relative alla chiave di ricerca e tra i sei volumi presenti il docente potrà scegliere quello che intende proporre l'adozione. Supponiamo che scelga questo volume, costo 18 euro e 28 centesimi, dopo averlo selezionato deve fare doppio clic sulla riga selezionata. Si riapre la solita finestra per la quale potrà indicare qualche nota esplicativa e specificare se si tratti di una nuova adozione per quella classe, se è da acquistare o meno, se è consigliato o meno. Scegliendo consigliato si avre un'altra finestra in cui bisogna indicare se si tratta di un approfondimento oppure di una monografia. Altrimenti lasciare nuova adozione da acquistare, confermare e in questo caso noi avremo inserito un libro che non si trova tra quelli adottati ma che è stato preso dal database di AIE. Questa è in estrema sintesi la procedura, nel caso si vogliano modificare dei dati allora è possibile agire o con il doppio clic sul rigo oppure cancellare il rigo che per errore fosse stato inserito utilizzando l'icona del cestino e quindi eliminare la proposta di adozione. Una volta effettuata la proposta di adozione, quindi inseriti nella parte superiore della schermata tutti i libri che si intende adottare, è possibile stampare un report PDF in formato grafico per poter avere una più agevole visione di quanto è inserito o come promemoria personale. In tal caso basterà cliccare sull'icona della stampante, sul barra dei pulsanti in alto e il sistema ci proporrà automaticamente una stampa in PDF dei libri di cui si propone l'adozione per quella materia, per quella classe. La stessa cosa può fare il docente coordinatore. Il docente coordinatore verifica l'adozione dei libri materia per materia da parte dei propri colleghi, dopodiché potrà, cliccando sulla riga che definisce la classe, procedere alla stampa di tutti i libri che sono stati proposti per tutte le materie per quella classe. In questo modo sarà facile avere sotto controllo la situazione delle proposte e presentare poi questa situazione, questo quadro, al consiglio di classe per l'approvazione delle indicazioni fornite dai docenti che a sua volta costituisce la base per la definitiva approvazione in sede di collegio dei docenti. Vi ringrazio dell'attenzione.